Le bandiere e gli striscioni di CGL e Will di Lucca hanno sventolato in Piazza del Popolo a Roma, dove ieri mattina si è svolta la manifestazione indetta dagli stessi sindacati per lo sciopero generale contro la legge di bilancio, approvata dal governo Draghi. Tanti hanno raggiunto la capitale da Lucca, a bordo di dieci autobus messi a disposizione dalle CGL. Tra le migliaia di manifestanti non è mancata dunque una buona rappresentanza lucchese, che ha unito la propria voce al coro di no ad una legge finanziaria definita poco lungimirante. Sul fronte dell'adesione nelle aziende, i dati diffusi dai sindacati spingono a parlare di successo. In alcune tra le più grandi aziende lucchesi si è arrivati ad oltre l'80% dei lavoratori che hanno incrociato le braccia.